Semi cincolato a terra Chi sta sparando? Chi sta sparando? Spostarsi sulla fiancata sinistra! La fiancata sinistra! Prima vediamo se sono morti Centonesimo, stiamo uscendo! Era un mezzo da ricognizione della seconda SS Aspettavamo un'esplorazione, doveva essere questo Capitano Miller, compagnia Charlie, secondo Rangers Caporale Anderson, compagnia Easy, 501esimo Ryan, prima della 506 Soldato Toimbe, terza della 506 Jane Francis, Ryan? Sì, signore Come fa a saperlo? Siete stati colpiti duramente Sì, signore Un'azione di piccole unità Sono arrivate e ci hanno fatto passare l'inferno con gli 88 Le dirò, signore Se siete il nostro cambio, spoggerò reclamo Non ti piasimo Chi è il vostro comandante? Sarebbe stato il Capitano Jenin, signore Ma il massimo grado che ora possiamo esibire è Caporale Allora, di cosa si tratta? Siamo qui per lui Ryan Per me, signore James Francis Ryan, del Iowa Sì, signore Peyton del Iowa, esatto Di che si tratta? I tuoi fratelli sono morti in combattimento Quali? Tutti quanti Fa sul serio Sì, ho paura di sì Vorrei startene un po' da solo Se c'è un posto dove vuoi andare Che è successo? Ryan ha perso i fratelli Quali? Tutti quanti Grazie a tutti